Ho letto da qualche parte, se avessi seguito mi sarei preparato, quindi quello che sono lo so di mio e insomma stiamo provando per la regione diciamo Ah ah, perché mi ha detto no, 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 no Vabbè sono contento, sicuramente avrei pagato il biglietto, sì Ma per me è una cosa vero, no, di meno Ma noi politici pagano di più perché ci hanno il buono